Lieve aumento per la borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,66%, sulla stessa linea, chiude in corso il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 9.090,93 punti. In denaro il mic e i 225, più 0,71%. La borsa di Schengen è rimasta chiusa per festività. I dati relativi all'indice si riferiscono all'ultima chiusura. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, nulla di fatto per Londra. Che passa di mano sulla parità, trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto alimentare con un calo di meno 0,44%. Giornata fiacca per Massimo Zanetti Beveridge, che tratta in ribasso dello 0,68%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi alla produzione, sia per la base annuale che per quella mensile. Ancora stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata l'M3. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le scorte di petrolio. Grazie. Grazie a tutti.